Music, news, sport, every day for you on the web, lecochannel.it, the blue light blue radio Mister ci siamo, siamo arrivati alla vigilia di Leco San Rebenzi, tanto in paglio tre punti per squadra, ovviamente sono gare che valgono doppio da questo punto di vista Sì, dal punto di vista più giornalistico che reale, penso che nella realtà conti tre punti, penso che noi dobbiamo stare concentrati, dover fare una partita fatta bene, giusta, di testa però come dobbiamo far sempre, le stesse cose che dico prima della partita con la Saremese sono quelle che ho detto prima della partita col Borgaro Tante volte si dice che troppa tensione può togliere un po' di energia alle gambe dei giocatori, come hanno assorbito un po' tutto il contorno i tuoi giocatori Sì, è bastato girare per la città a vedere che c'è un certo tipo di attesa per questa partita Sì, penso più fuori che dentro, nel senso che dentro c'è l'attesa per la voglia di dare soddisfazione al pubblico e alla gente che ci viene a vedere però ho visto una settimana molto serena e molto concentrata E da che tipo di risposta ti aspetti dal pubblico? No, mi aspetto tanta gente, mi aspetto la voglia di vedere giocare questa squadra e questa squadra ha voglia di giocare per il pubblico e questa simbiosi che si è creata dall'inizio mi auguro che venga portata avanti durante questa partita perché deve essere lo specchio dell'intera stagione Inserisci in Rosa due elementi importanti, comunque come va, e Dragoni che ti danno ulteriori soluzioni a livello di gamba soprattutto? Sì, sono a disposizione, non sono ovviamente entrati completamente nei meccanismi di squadra perché ci vuole tempo per entrare in una squadra come la nostra però si sono presentati già in condizione con la testa giusta per dare un contributo importante, mi aspetto e mi auguro già da domani Carboni è rientrato in Rosa già con la Milano City, Merli Salah è sempre sul pezzo ovviamente la certezza in questo momento rappresentata capita malgrati torni all'antico o rimani sulle tue solide certezze? No, no, beh, rimango sul fatto che sono tre giocatori molto importanti a prescindere da chi sceglierò dall'inizio si è visto anche domenica, c'è bisogno sempre di tutti e quindi sono molto molto fiducioso del fatto che continuano a lavorare come hanno fatto finora per dare un contributo quando toccherà ad ognuno a questa squadra perché squadre con due soli difensori centrali che fanno bene nei campionati ne ho viste gran poche Grazie mister, buon lavoro A voi Music News Sport Every day for you on the web Leco Channel.it The Blue Light Blue Radio